Salve, ci troviamo qui presso l'azienda agricola Paolucci, Francesco e Giovanni, titolari di un'azienda agricola produttrice di pesche, fragole, patate, meloni e cocomeri. È una zona pianeggiante, siamo vicino al fiume, quindi abbastanza umida come zona. L'anno scorso c'è stato un forte attacco di mosca mediterranea della frutta, tutte le aziende hanno avuto grossissimi problemi al fine della raccolta. Consultandomi con un amico mi ha consigliato di provare la Way Out, un prodotto con zero giorni di carenza perché ovviamente eravamo a ridosso della raccolta, non potevamo intervenire chimicamente, quindi l'unico modo per cercare di salvare perlomeno, se non tutta la produzione, ma una parte, era questo Way Out. Siamo intervenuti a due o tre interventi, diciamo, a distanza di sette o otto giorni, anzi, dirò di più, l'ultimo passaggio è stato fatto due giorni prima della raccolta, appunto perché non avevamo problemi di carenza, quindi ci siamo potuti avvicinare molto. Posso dire che i risultati, a differenza di tante altre aziende, è stato molto soddisfacente. Devo dire che questo Way Out ha avuto un riscosso, diciamo, repellente più che chimico, perché non essendo chimico sulla pesca, diciamo, ripeto, il raccolto non è stato del tutto danneggiato. Un buon 70% l'abbiamo raccolto.